Nuovi problemi di approvvigionamento idrico a Barga. Dopo la zona del Pian Grande rimasta senza acqua domenica sera e dopo altre aree del territorio in difficoltà come Fornace e Filecchio ed anche la zona alta con Tiglio e Pegnana in prima linea, lunedì sera fino a dopo la mezzanotte all'asciutto è rimasto l'area di Via Lato e parte di Barga Giardino a causa di un problema lungo una tubazione. C'è stata questa rottura, è un'ennesima rottura che c'è stata in questi giorni nel nostro territorio, siamo preoccupati perché siamo in un momento particolarmente difficile con carenza d'acqua, fino ad oggi abbiamo gestito la faccenda nel modo migliore, credo non ci sono stati grossi disagi ma queste rotture ci preoccupano perché l'acqua scarseggia e quindi non ci sarebbe bisogno di queste rotture. Fortunatamente anche stasera Gaia è intervenuta prontamente e stanno riparando il danno. La causa è stata appunto la rottura di un grosso tubo avvenuta in Via del Capriolo all'altezza dell'incrocio con la provinciale di Via Pascoli. La zona è rimasta senza acqua in quanto la rottura del tubo ha svuotato in poco tempo il deposito di Via del Capriolo, già non al massimo della sua portata a causa della siccità di questi mesi. L'intervento di Gaia è stato pressoché immediato per fortuna e questo ha limitato in parte i disagi che comunque non sono mancati.